più che mai quando si comincia a prendere delle scelte ci si deve interrogare sulla prospettiva della scelta stessa lo sapete che io venero michele salvemini in arte caparezza che sulla scelta ha scritto un intero brano e si dice di essere contento della scelta che ha fatto e la questione della scelta è cruciale soprattutto per lo scrittore che andremo a presentare a breve perché tutto il senso della sua recente scrittura ruota proprio intorno a questo concetto è un concetto che viaggia tra la magia e un dolce sticazzi io lo ringrazio perché lo posso dire come se fosse una liberazione è il nostro personaggio io davvero di cuore ringrazio andrea pietrangeli per essere qui con noi ciao andrea buon pomeriggio grazie a te un meritatissimo applauso grazie grazie di cuore oggi presentiamo farmagia per l'appunto la suprema via della guarigione che abbiamo qua grazie al lavoro della nostra regia che è un vero e proprio omaggio al senso delle scelte al senso della magia che si scatena dietro queste scelte perché tu racconti di un'umanità afflitta affranta triste malinconica che sceglie di abbandonare questi sentimenti e di vivere con la magia verso un mondo nuovo per respirare aria fresca sì sì perché poi un po il mio cammino quindi non ho non ho questa presunzione di parlare insomma alle folle però quando scrivi un libro chiaramente esci allo scoperto non è un po quello che in quest'epoca ti fanno fare anche i social ok quindi abbiamo sempre tutti noi abbiamo un pubblico a disposizione che sia la famiglia che sia un gruppo insomma e quindi bisogna avere anche il coraggio di smettere di recitare perché per la mia esperienza quando tu reciti e quindi hai delle convenienze nella vita in realtà poi tu sei soggetto a una serie di attacchi proprio dalla vita stessa perché in realtà la vita non è niente di brutto ma è qualcosa di straordinario tutti noi siamo dei capolavori e io ho scoperto insomma in questi vent'anni di cammino da quando ho perso mio padre no perché insomma l'essere umano evolve attraverso gli shock cioè noi possiamo comprendere le cose soltanto se passiamo dentro lo shock altrimenti tendiamo a sederci sulla nostra vita e sul nostro personaggio che recitiamo quindi quando arrivano gli shock io ho scoperto che sono degli aiuti micidiali infatti nel libro parlo di quattro aiuti no e questi quattro aiuti in realtà ti vogliono smuovere sempre da dove da dove stai insomma anche dal personaggio che credi di essere che reciti nella vita perché in realtà poi quando tu guarisci queste ferite che ti hanno fatto da bambino cioè inizi a scoprire che tutto il percorso che hai fatto era perfetto il rischio qual è che tu rimani incastrato nel personaggio non t'accorgi della bellezza che stai vivendo beh insomma cominciamo una bellissima risposta per cominciare no devo dire veramente perché poi tu dici non voglio parlare alle folle però io mi sento coinvolto io sono convinto che chi a casa in questo momento è assolutamente coinvolto perché è vero all'umanità serve uno shock per capire ciò che prova e la bellezza di ciò che ci circonda però tu hai fatto un esempio legato proprio alla nostra partenza a quando siamo piccoli a quando siamo bambini io ti faccio una domanda proprio legata a far magia noi da bambini la magia la riusciamo a fare anche se intorno ci fanno tanto male poi dimentichiamo come si fa purtroppo è il percorso è proprio il cammino che scegliamo diciamo io non mi piace parlare di anima di cose insomma religiose cioè proprio secondo me anche la scienza stessa secondo me noi abbiamo energia siamo energia e quindi una parte di questa energia è miracolosa e credo che quello che veniamo a vivere sia proprio questo passaggio nella gravità no quindi la forza di gravità in realtà è la gravità è il grave il peso sono tutte le afflizioni quotidiane la paura è tutta roba che noi possiamo avere il coraggio di mollare e che invece siccome ci hanno caricato da piccoli di queste cose noi pensiamo di essere quello invece io nel mio percorso ho iniziato a staccare pezzi non miei quindi diciamo per questo serve il libro sticazzi sticazzi è proprio una roba molto maschile dove tu entri e inizia ad avere il coraggio di dire no basta questa roba non è mia questa roba non mi appartiene basta non mi collego più a certe sensazioni e dopo si passa nel femminile di farmagia che accogliere tutto quello che stai vivendo con gratitudine e riscoprire quindi il lato bambino che era stato bloccato dagli adulti che per me gli adulti sono bambini andati a male cioè quando tu credi nel tuo personaggio che reciti nel mondo che tra l'altro è sempre ferito perché io nel libro farmagia do diciamo uno spunto per scoprire qual è la ferita che ti hanno fatto da piccolo ed è precisa e spesso io quando l'ho utilizzato con le persone questo metodo si mettono a piangere perché ricontattano il bambino bloccato e il pianto è la parte liberatoria che serve che è fondamentale o far uscire l'acqua che l'acqua da dentro di noi ha la memoria emozionale quindi all'acqua ci sono agganciate le emozioni quindi quel pianto lì è finalmente cioè mondo sti cazzi io sono questa cosa qui sono piccolo sono vulnerabile non ho fatto niente di male e proseguo su questa strada non ho fatto niente di male stacco la vergogna stacco il senso di colpa è una liberazione micidiale bellissimo e sono sempre è raro che accada una cosa del genere però ogni tua risposta mi fa dire non è che devo fare altre domande ci stai dicendo veramente dei concetti stupendi e fidati che è raro è raro la regia sono otto mesi e mi è raro che io possa restare un attimo porca miseria insomma colpi no veramente molto molto raro perché insomma lo diceva calvino nelle sue lezioni americane che leggerezza non è superficialità bensì planare dall'alto verso le cose e a tutti gli effetti lo vivi con questa intensità e con questo modo emotivo questo riappropriarsi della nostra anima infantile che però vive nel respiro quotidiano sì poi tra l'altro diciamo lo sticazzi è proprio una parola io sono nato e incarnato a roma a chi lo dici cioè quella roba lì tu quando la vibri veramente perché lo sticazzi non è il vaffa cioè perché spesso le persone si sbagliano è più liberatorio sì perché il vaffa tu lo rivolgi verso l'altro no invece sticazzi è proprio le voci che senti dentro che non sono le tue alle quali puoi iniziare a disobbedire come se fossero voci esterne che però dentro di te fanno pressione esatto risuonano pazienza risuono così e questo diciamo di questo percorso è fondamentale andare nella tua parte oscura cioè se tu non vai nella tua parte oscura perché da bambino ti hanno detto fai il bravo e fai il bravo e la parte brutta quella cattiva dove la metto quindi cresci che la parte cattiva va nell'inconscio e diventa una roba che nell'inconscio nel buio ti manipola quindi tu vai a dormire ogni sera che per me lo dico spesso quando vai a dormire sono le prove generali di quando te ne vai dal pianeta e ogni giorno muori però ogni giorno rinasci quindi se tu non fai pace con quella parte oscura il giorno dopo ti risvegli e ti riconnetti alla finzione perché da piccolo ti hanno detto che quella cosa non si faceva non si poteva fare sai qual è il discorso? è un concetto che richiama molto la filosofia di Confucian che diceva per l'appunto che l'uomo vero è colui il quale riesce a ribellarsi alla società è quello che da piccolo si è ribellato ai genitori ora non stiamo dicendo che adesso i bambini devono prendere e andarsene di casa mandando a quel paese tutti però è un'affermazione della propria identità e affermare la propria identità a volte va a dire anche questa cosa non mi sta bene non voglio che sia così sti cazzi per l'appunto senza rendere conto a nessuno capito cioè avere quel coraggio lì ti consegna veramente una magia perché ti consegna il tuo mondo in mano sai Andrea è molto interessante anche la scelta che tu hai fatto quando l'ho visto ho detto questo sarà uno dei miei ospiti preferiti infatti è confermato del viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich che è il quadro del quale mi sono innamorato all'età di 16 anni quando l'ho visto ottima la regia che ce lo propone è l'emblema dell'uomo romantico l'emblema assoluto che guarda oltre se stesso consapevole di reggersi su poco come mai hai scelto questo quadro? ma guarda l'idea intanto non l'ho scelto io perché è stato un lavoro di gruppo io ho portato una foto con un ragazzo che guardava le nuvole dall'alto e quindi poi è venuta l'idea diciamo a Elisa Picozza che tra l'altro ringrazio e Giovanni Picozza che sono gli editori di Spazio Interiore insieme a Elisa Fantinan che si occupa scusa faccio un attimo ci mancherebbe che si occupa dell'ufficio stampa è uno staff di una casa editrice che sembra di nicchia ma in realtà sta portando tantissima consapevolezza nei lettori e diciamo questo lavoro di gruppo ha portato poi a questa copertina che poi secondo me rappresenta proprio tutta la fatica che fai da solo per salire sulla cima della tua montagna guardare sotto non si vede niente però stai nella contemplazione perché non vedi cioè lui non vede niente sotto è nuvole quindi non dover capire cioè una c'è in farmagia io alla fine ho messo un elenco di vere parolacce alla fine del libro ci sono l'elenco di vere parolacce uno di queste parolacce è devo e l'altra è capire devo capire accoppiato insieme sono letali e quindi lui sta lì ha fatto tutto il percorso e non ha capito non vede alla fine il risultato la soluzione e dice sti cazzi cioè mi sono goduto il viaggio mi sono goduto anche la fatica e ho vissuto è bello questo quando tu dentro vibri con ho vissuto cioè tu sei grato stai nel presente non puoi che ringraziare la vita e quando inizi a ringraziare ti assicuro che non c'è più spazio per la lamentela se tu vai a vedere le cose da ringraziare nella tua vita la lamentela l'indignazione non esiste più c'è solo grazie è bello questo è veramente un bel concetto l'elenco di parolacce che ormai speriamo è difficile non è facile ci sto lavorando insomma sono veramente tante allora purtroppo tempus fugit per dirla alla latina quindi vado a prendere le carte allora però prima ve lo spieghi insomma questa cosa delle carte collegate al metodo che hai narrato in questo senso del parlare del far magia e di richiamare il bambino intanto scegli una carta scelgo io scegli tu vai vai scegli pure la carta vai vai presa da qua vediamo la teniamo per tutti esatto anche io ne scelgo una ecco perfetto guarda abbiamo pescato accettazione perdono gratitudine io invece atto di coraggio non puoi più rimandare rimandare questo è un tema interessante parlaceno un po' tra l'altro voglio ringraziare anche Adele Cafari che ha fatto i disegni perché diciamo queste carte qui in realtà sono state studiate proprio per riconnetterti alla parte bambina al gioco nella vita a scegliere il gioco quindi ti aiutano molto e serviano proprio questi disegni bambini Adele Mimu ha fatto dei disegni splendidi in questo ecco accettazione perdono e gratitudine non hai mai sbagliato nulla il sottotilo è bellissimo perché uccide il tuo giudice interiore accetta tutto perché non sbagli mai niente invece atto di coraggio ti dice proprio che non puoi più rimandare cioè fare un atto di coraggio coraggio vuol dire azione del cuore cioè quando tu apri il cuore esci dalla testa quindi sei salvo quando stai nella testa è un macello perché stai nella dualità quindi pensi che sia giusta una cosa e ti arriva subito la bomba duali poi se non sbaglio anche il titolo di un capitolo di farmagia duali è una vignetta è una vignetta che poi è detto in romano duali duali cioè il bene e il male sono duali è vero è vero ti prendo la carta te ne faccio scegliere un'altra perché purtroppo abbiamo tre minuti quindi insomma diciamo così le peschiamo è bello quello che emerge anche magari così dei rispettatori allora pesco questa vediamo ma è molto energia vedo ecco è molto energia allenamento energetico non era calcolata e questo fa parte allenamento energetico quattro energie creano la tua realtà queste sono le bacchette magiche che vengono descritte in farmagia cioè noi abbiamo quattro bacchette magiche che puoi utilizzare ogni momento per creare la tua realtà diciamo vanno scoperte non le voglio svelare però guarda abbiamo questa roba a disposizione che è racchiusa nel corpo che è sempre tuo amico quando ti manda un sintomo quando ti manda una malattia in realtà ti sta aiutando a riallinearti cioè quando tu scopri questo è bellissimo è straordinario ma guarda direi che la cosa migliore con la quale chiudiamo è che ho pescato la carta che per me è la più bella tra l'altro questa te la rubo me la conservo nel portafoglio veramente bambino interiore la vera caccia al tesoro è dentro è dentro ho anche un bel applauso perché insomma non è una cosa da poco grazie Andrea grazie davvero di cuore un bellissimo abbraccio però prima di chiudere giustamente ricordiamo farmagia insomma ci sono altri libri mi sono dimenticato dai abbiamo un minutino vediamoli insieme con una rapida carrellata perché la regia è sempre solerte nella sua applicazione c'è anche liberazione con prefazione di franco battiato giusto? esatto poi abbiamo anche contemplazione è veramente un ottimo esempio e poi abbiamo rievoluzione romanzo alchemico un ottimo lavoro veramente Andrea complimenti grazie 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 di cuore grazie allo staff grazie Ilaria che era qui che mi ha sostenuto carinissimo facciamo anche un applauso a Ilaria intanto noi andiamo a vedere il servizio e poi rientriamo in studio per la nostra rubrica dedicata alle iniziative del mondo dello spettacolo a vedere il giro a vedere il giro